Buongiorno e ben trovati con la rassegna stampa di Molise TV. Oggi è venerdì 9 maggio, vediamo come titolano i principali quotidiani locali e nazionali. Iniziamo dal quotidiano del Molise, che titola con Chiesa e politica, aperto il dialogo. Lavoro ed umiltà, le richieste del Vescovo e cinque candidati sindaci. I brigantini usate il noi piuttosto che l'io e agite con senso di responsabilità. Per i cinque candidati alla carica di sindaco si è trattato di un confronto sereno e finalizzato al bene della comunità. Perché chiunque fra loro andrà ad assumere la carica dovrà agire per redare speranze ai cittadini sfiduciati. E poi la festa dell'Europa. L'unità resta il principale obiettivo, la riflessione dell'europarlamentale Aldo Patricello e del presidente del Consiglio regionale Vincenzo Niro. Il 9 maggio di ogni anno ricorre la festa dell'Europa, istituita nel 1985, per ricordare il giorno in cui, nel 1950, il ministro degli esteri francese Schumann pronunciò il famoso discorso passato alla storia come dichiarazione Schumann. Primo tassello per la costituzione dell'unità e dell'integrazione dei popoli del vecchio continente, sulla ricorrenza e contributi di Aldo Patricello e di Vincenzo Niro. E poi l'evento, l'esercito italiano da 153 anni al servizio dello Stato, una ricorrenza che è stata festeggiata come si conviene al comando militare in Molise. Commissione Agricoltura del Senato, terreni confiscati alle mafie, la mozione di Rute, il senatore tra i cofirmatari insieme a Scalia. E poi a Campobasso, la cronaca pedina e tende un agguato ad anziano che ritira la pensione, i carabinieri catturano la rapinatrice domiciliare e braccialetto elettronico, la 26enne che ha aggredito e picchiato un anziano e la donna che lo aveva accompagnato alle poste. Campobasso comunale, il PSI è della partita. E poi lo sport, Serie D, Termoli sale l'attesa per la disputa del match playoff, Slalom, oltre 70 gli iscritti al Memorial Battistini. E per il quotidiano controlliamo le pagine interne Europa, idea ancora attuale. Aldo Patriciello interviene con un pensiero sulla ricorrenza odierna, superare il senso di euroscetticismo che nuoce alla credibilità delle istituzioni. Nero, un'occasione di riflessione per superare la crisi attuale, l'intervento del presidente del Consiglio regionale sul 9 maggio. Le aziende molisane si fanno onore alla fiera Cibus di Parma, previste a breve altre iniziative a favore dei prodotti locali. E ancora a Ruta, uniti contro le agromafie, un segnale forte contro la contraffazione e la tutela del Made in Italy, Commissione Agricoltura, il senatore del PD, cofirmatario di una mozione insieme a Francesco Scalia. E poi Aldo Di Giacomo, carceri, situazioni al limite, il candidato IDV continua battaglie per i detenuti. Ciocca e Massa incontrano gli inquilini degli alloggi di edilizia popolare, illustrata la nuova legge elettorale. Trasferito il sostituto procuratore Fabio Papa. E ancora del fattore al congresso CGL proposte precise sul lavoro. Tregnina da domani, limitazioni al traffico per lavori di consolidamento. Passiamo ora a primo piano Molise, che titola con Isernia a un nuovo vescovo. Nominato ieri dal Papa, Camillo Cibotti scrive ai fedeli della diocesi «Accettatemi con tutti i miei limiti». Il successore di Visco sarà consacrato l'11 giugno. L'ingresso in città è previsto per il 28. «Accettatemi con tutti i miei limiti, lasciatevi amare e permettetemi di amarvi». Queste le prime parole del nuovo vescovo di Isernia, Camillo Cibotti, che ieri, nel giorno della nomina, ha scritto ai fedeli della diocesi dove si insedierà a fine mese, due settimane dopo la consagrazione, che avverrà l'11 giugno. Campobasso Bregantini, nell'agenda politica del futuro sindaco, solida età e bene comune, incuria il primo confronto tra i candidati in corsa per la fascia tricolore. E poi la cronaca. Campobasso picchia un anziano e tenta di rubargli la pensione arrestata. La 26enne aggredisce la vittima e una sua familiare, poi fugge ma i carabinieri la rintracciano. Il verdetto del CSM, incompatibilità ambientale, Papa trasferito a Rovigo, il PM lascia Campobasso e annuncia ricorso. Fabio Papa è stato trasferito a Rovigo, ma farà il ricorso. E poi la cerimonia, la sede dell'Aido di Venafro, intitolata Rita Maria Matteo, la ragazza che morì in incidente stradale. Isernia ricattava preti gay, caggiano a processo, il sacerdote ortodosso accusato di estorsione. Aspettando Francesco, il 5 luglio l'abbraccio a Bergoglio, tornano anche i molisani nel mondo. Petraroia, insieme a Frattura, si lavora per una conferenza straordinaria. La regione punta ad organizzare la conferenza dei molisani nel mondo per i giorni che vanno dal 3 al 5 luglio. La scelta, spiega il vicepresidente Petraroia, è per far coincidere l'evento con la visita di Papa Francesco a Campobasso e Isernia. E poi una notizia dall'Abruzzo, elezioni Paolo Ferrero fa tappa a vasto rifondazione l'alternativa in regione con Acerbo e in Europa con Sipras. E poi lo sport serie D tra Urbano e Lagnone, accordo di massima under 17, perciò anche il secondo gettone in azzurro. Anche per primo piano controlliamo le pagine interne, incompatibilità ambientale, Papa trasferito a Rovigo, lo ha deciso il CSM per conflitti interni alla procura di Campobasso. Il PM impugnerà il provvedimento e farà e fa sapere che è provvisorio. Palazzo dei Marescialli si è pronunciato all'esito di un procedimento disciplinare. E poi i piani operativi, i comitati insistono, rafforzare la sanità pubblica alla presa di posizione in attesa del giudizio del tavolo massicci. All'oggi popolari, summit sull'alienazione, tariffe agevolate anche per le pertinenze, massa e ciocca hanno illustrato le novità. Ora l'iter della legge 12 può procedere. Al congresso CGL la crisi del Molise, del fattore emergenza, a fine giugno la marcia per il lavoro. E poi arriva Papa Francesco, gli emigrati tornano in patria, la regione punta ad organizzare la conferenza dei molisani nel mondo dal 3 al 5 luglio. Petraroia, insieme al governatore, stiamo lavorando per far coincidere gli eventi. Vogliamo rendere più vero l'abbraccio a Bergoglio. Carceri e giustizia di Giacomo, riforme strutturali e politiche coraggiose. Candidato con l'indv per il Parlamento di Strasburgo, il sindacalista convoca la stampa in via Cavour. Terreni confiscati ai giovani agricoltori, ruta e impegna il governo Renzi nella mozione del senatore del PD, misura e a tutela del Made in Italy. E ancora 9 maggio del 1950, festa dell'Europa nero in calza, l'Unione Europea è veicolo di pace e crescita. Leggiamo ora la gazzetta del Molise, che titola con Ciocca, Robin Hood, al contrario all'OIACP, sfrattano i poveri e vendono le case ai ricchi. Guai a indagare sulla sinistra, chi ci prova è trasferito. L'Oscar del giorno viene affidato a Fabio Papa, il tapiro ad Antonio Battista. E controlliamo le pagine interne, in allestimento un nuovo comitato unico di garanzia piegato alla strategia della giunta regionale, cambio al vertice della regione Molise, la Petrollinis che se ne va, inutilmente è stato chiesto tramite la segreteria particolare, di poter incontrare il presidente, se non altro, solo per avere il piacere di salutarlo e conoscerlo. E poi cammina a Molise, ma per andare dove? Ai camminatori, in virtù del loro ricercato punto d'osservazione, dell'essere testimoni diretti di uomini e cose incontrati lungo il loro pregevole percorso, vorremmo chiedere cosa è cambiato in vent'anni in Molise, a supporto, se davvero sono convinti delle utilità, anzi delle ineluttabilità, di ricostruire il collegamento. Da vent'anni c'è gente che paga per entrare in novero di coloro che da vent'anni si assegnano il privilegio di scarpinare, anzi di camminare il Molise. E ancora, case popolari si svende ai ricchi e si toglie ai poveri. Ecco la sinistra, mentre sfrattano i cittadini in difficoltà, vendono gli appartamenti a quattro soldi e più facoltosi. E poi la lettera di Salvatore Ciocca agli inquilini nasconde il danno erareale che la regione sta procurando al Molise. E adesso leggiamo insieme il quotidiano online in forma a Molise. Tra le notizie in primo piano, tentato furto ai danni di un anziano donna in carcere. E poi Corea, campagna di raccolta fondi per un contatore e ganger per la misurazione della radioattività. E ancora eolico selvaggio Petro Roia, non ho problemi a fare un passo indietro rispetto alle responsabilità istituzionali che ricopro. E in ultimo Pasquale e Toma, il Comune ha investito milioni di euro, abbiamo peccato nella comunicazione. Passiamo ora alla stampa nazionale, leggiamo la Repubblica, la grande retata dell'Expo. Mazzette e carriere, una cupola gestiva agli appalti di Milano, arrestati politici e imprenditori. Dalla stagione di Mani Pulite riemergono Primo Greganti e l'ex democristiano Frigerio. La di Sala adesso è a rischio l'esposizione universale, il PM Robledo si dissocia. E poi Blitz della DIA in carcere Scaiola aiuta a fuggire il latitante Matacena. L'ex ministro, fermato in un hotel a Roma, Berlusconi sono addolorato. Passiamo al quotidiano e il tempo, a volte ritornano a nostra insaputa. Tangenti Expo, coinvolti gli ex di Mani Pulite dal comunista Greganti al DC Frigerio. Scaiola e Manette, l'ex ministro avrebbe favorito la latitanza dell'ex PDL Matacena. E poi Jenny Romanisti e quell'agguato al solito autogrill, il precedente del 2008, sulla pistola Nuovi Dubbi. Botta in risposta, inchieste e scontri di potere, soliti nomi e cogne mediatiche. E poi ancora TV da tutto il mondo per Silvio Frai, malati da oggi alla Sacra Famiglia. Inchiesta del tempo, così la CGL di Camusso lucra sui pensionati. Cortei per case e università, da lunedì nella capitale, tornano gli sfascia vetrine. E poi il giallo baby squilo dei parioli, suicida ricercatore Enea. Passiamo alla stampa, scandalo mazzette, all'expo tra i sette arrestati, greganti e frigeri, o già protagonisti di Mani Pulite. A Roma e Manette Scaiola, aiutato la latitanza di un ex deputato. L'accusa, una cupola, truccava gli appalti, in carcere responsabile delle costruzioni. Renzi, martedì a Milano, non farò finta di niente. La storia, il compagno G, il vecchio DC, e poi ritroscena il governo teme, l'onda grillina, il personaggio, l'ultima candidatura dell'ex ministro. E poi, Michelle e le altre, appello per le nigeriane rapite. Passiamo adesso al messaggero di Roma, bufera, expo torna, tangentopoli, Milano, l'ombra di un nuovo scandalo, sette arresti tra loro, greganti, Frigerio e Paris, i PM, una cupola, palti grazie ai politici, procura divisa, Robledo non ferma, agli atti. I personaggi, dal compagno G agli ex DC, ancora la prima repubblica, operazione dell'antimafia, in manette, l'ex ministro Scaiola, aiutò alla latitanza di Matacena. E poi, scontri a Roma, con mando ultra in quattro, con De Santis, a Napolitano, in transigenza assoluta, con i violenti. Fisco, così si cambia direttamente a casa, il modello compilato, Renzi dal 2015, la dichiarazione sarà abolita, il cittadino dovrà solo indicare le detrazioni. Passiamo adesso all'informazione economica, leggiamo il Sole 24 ore, BCE a giugno misure anticrisi, Draghi preoccupano il livello del cambio, l'inflazione è troppo bassa, Francoforte lascia i tassi invariati, rinvia di un mese gli interventi, servono nuovi dati, borse europee in rally. E poi, appalti expo, sette arresti, Renzi in massima severità, in carcere il Digipare, i segreganti, Frigerio e Luigi Grillo, sala ha tradita, la mia fiducia, ora una nuova governance. E poi ancora beni di impresa, stretta più soft, l'economia blinda, il decreto 80 euro, solo piccole modifiche, emendamento del governo, pagamento dilazionato, lupi sostegni a famiglie monoreddito. Passiamo adesso allo sport, leggiamo la gazzetta dello sport, Girolandia, via l'edizione numero 97, percorso intrigante, con un finale durissimo in salita. La corsa gazzetta, parte questa sera da Belfast, con la crono a squadre, che spettacolo, migliaia di persone in piazza, per salutare i corridori. E poi il calcio, Spalletti, contatto, Berlusconi, Montella, mi piace molto, la panchina Milan, la panchina Juve, Conte e Dannelli, carta in tavola, il giorno verità. Passiamo adesso al corriere dello sport, Agnelli, Conte, incontro e gelo, Evrenani sono della Juve, ma per il tecnico ancora non bastano. Torres da Inter, la nostra intervista ad ausilio, Fernando ha vinto ovunque, lo seguiamo da tempo, Amsic piace a tutti, avanti con Mazzarri e il nostro futuro. E poi immobile, sì al Dortmund, maxi contratto di 5 anni, Montella spaventa Firenze, Berlusconi lo tenta, Vincenzo vuole chiarezza, Milan in agguato. E ancora la sicurezza, un comando con De Santis, Stadi, la sicurezza costa 20 milioni. E poi il basket, Siena, Shock, Minucci, in arresto, frode fiscale per l'ex presidente. E questo era il nostro ultimo quotidiano sportivo, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per aver scelto la rassegna stampa di Molise TV e buona giornata. Il meteo è offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Previsioni del tempo per venerdì 9 maggio. Un campo di alte pressioni abbraccia il sud-est d'Italia garantendo tempo stabile assolato su Molise, Basilicata e Puglia. Da segnalare solo qualche annuvolamento diurno a ridosso della dorsale appenninica molisana, ma senza conseguenze. Temperature minime stazionarie, massime in aumento, con punte di 22-23 gradi. Vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 10, massima 22 gradi. Isernia minima 7, massima 21 gradi. Termoli minima 14, massima 19 gradi. Il meteo è stato offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. I'ero